negli ultimi vent'anni ma soprattutto i primi dieci anni di Forza Italia che è un partito che io ho sempre ammirato perché ha ridato la libertà a tante persone, ha dato la libertà di pensiero a noi, ha fatto nascere la libertà di porsi come uomo politico uno dei maggiori tra lettori della Repubblica Italiana che è Gianfranco Fini. Ci tengo a dirlo perché io negli ideali di Forza Italia, negli uomini, negli amici di Forza Italia che io ho conosciuto in questi anni e con cui mi sono sempre confortato ho sempre trovato amici, disponibilità, rispetto ma soprattutto persone con cui creare un progetto che finalmente quest'anno è sbocciato con la mia candidatura di questa città. Voi lo sapete, io mi sento candidato di Forza Italia non perché lo dico per una mia convinzione personale per quello che Forza Italia rappresenta anche nella mia storia politica. Quindi ringrazio profondamente Giovanni Totti che oggi ha deciso di passare qui da Sanremo certamente per la sua campagna dell'Europa ma insieme agli altri candidati qui presenti ma per sorreggere, per confortare, per dare coraggio, per dare una spinta determinante alla mia elezione. Io avversario i candidati dicono qua saremo delle cose poi sono al governo a Roma e le fanno esattamente al contrario. Dicono che vogliono la sicurezza e appoggiano il mare nostro. Dicono che vogliono la sicurezza e votano la sicurezza e tagliano i fondi alle nostre forze dell'ordine che noi qua abbiamo messo in lista perché noi siamo i fautori della legalità e della trasparenza, non chi lo dice e non lo fa. Dice che amano le famiglie e poi fanno le porcate che votano in Parlamento e noi siamo diversi. Io mi candido a sindaco di Sanremo perché io mi sento rappresentante di questi ideali e ne sono fiero e ne vado orgoglioso profondamente.